L'amore è una pazzia, come una malattia, ti prende e ti tra l'oggi e poi non va più via. L'amore è sensazione, e non c'è soluzione, si nutre di emozioni, un piccolo attenzione. L'amore è sensazione, e non c'è soluzione, si nutre di emozioni, un piccolo attenzione. L'amore è sensazione, e non c'è soluzione, si nutre di emozioni, un piccolo attenzione. L'amore è sensazione, e non c'è soluzione, si nutre di emozioni, un piccolo attenzione. L'amore è sensazione, e non c'è soluzione, si nutre di emozioni, un piccolo attenzione. L'amore è sensazione, e non c'è soluzione, si nutre di emozioni, un piccolo attenzione. L'amore è sensazione, e non c'è soluzione, si nutre di emozioni, un piccolo attenzione. L'amore è sensazione, e non c'è soluzione, si nutre di emozioni, un piccolo attenzione. L'amore è sensazione, e non c'è soluzione. L'amore è sensazione, e non c'è soluzione. Io non posso assolutamente non pronunciare con lei, che mi affianca in questo contesto, con lei che dà musica d'aria, simpatia. Signori Magda Mancuso. Buonasera a tutti, ho fatto un'accoglienza meravigliosa con il grande Totò. In simpatia con il grande nostro amico. Certo, certo, come va? Il preppa da Totò e il grande Umberto del Prete, perché dopo ci sarà il suo angolo. Ciao Magda. A te come va? Tutto bene? Caro amico, mi sei mancato tutta questa settimana. Anche tu. Sono dei progetti. Eh, che progetti. Vogliamo fare un saluto al nostro amico in comune, Mimmo Taurino, l'artista. Ciao Mimmo, eh, a breve ci sarà un video sul suo brano con me. E poi voglio anche salutare Ida e Venti, Vending Planer e tutto il suo staff, tutta la sua organizzazione e tutto lo staff di Radio Saviano Solo Musica Napoletana in FM 89.100. Io devo salutare degli amici che ci seguono da casa. Saluto la Contea Da Vinci di Casal Nuovo con Gennaro Cucurullo e Elisabetta Gaudino ci stanno seguendo. un bacio da noi. Allora, aggiungiamo, mettiamoci alla nostra postazione. Certo. E lasciamo un po' di spazio a questa meravigliosa orchestra di stasera. Come sempre che ci affiancherà tutto il percorso dello show che spettacolo. Signori, stasera subito in allegria ma in grande musica, Lidia D'Oliver è la sua band. Grazie. 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 Grazie mille Lidia dopo. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Allora adesso andiamo anche nel profondo del programma con il primo artista. Lui, signori, è Jenny Aboglio. Buonasera, Jenny. Buonasera. Allora, andiamo con il primo brano, un brano che io adoro eccezionalmente, nulla togliere a altri suoi colleghi. Il titolo è Non voglio fuì, di Bruno Lanza, Mario Simeoli, in collaborazione con l'artista Giulietta Sacco, che salutiamo. Arrangiamenti Mario Simeoli, signori, canta Jenny Aboglio. Stamme kà, innamorati inutilmente sta città, m'è passata pura voglia da cantà, volessera sta. Ma come si fa? Che mi fa? Si ne manca chi sta morando già può fare. E si vai lontano non ti fai resta. Ma come si fa? Che mi fa? Non voglio fuì, non voglio fuì. Si, ma sei più forte che ci fa morire. Quando passa fuori, un miracolo è Dio. Fa senti quante è bella sta vita, questa vita. Per i quartieri abbracciati, qualcuno abbracciato, a cantare Reginella con noi. Reginella con noi. E che fai? Arrangiamentoproof espressi, non voglio fuori. Tu lo parla? Tu che non sei nata qua, che parla fa? Certi volte sei scordata pure a dia. E questa città? E tu parla? Arancia Una parola che s'avesse a cancellarla Perché il suono non c'è abbastanza per campare E accungiamo questa vita che canzone Non voglio qui, non voglio qui Il tradizio è questa città Non voglio qui, non voglio qui Non voglio qui, non voglio qui Quanto è bella questa vita Le quartiere abbracciate e qualcuna picciata A cantare Reginella con noi Reginella con noi Nasi fiori, dove asci, ci porto il caffè Come risci come vera e proprio e buona Insieme a te Una notta da porcella E' 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 una notta da porcella Non voglio qui No, no, non voglio qui Che tradizio è questa città E' una notta da porcella 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 E' una notTA E' una notta da porcella Grazie a tutti. 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 Aspettiamo venerdì prossimo. Anzi, ma come si è lungo, Franco? Lui sì, lui sì. Io intanto volevo approfittarne, sai, per farmi un po' di pubblicità. Il 22 dicembre ritorno a teatro, signori, che è Napoli a Benizio, che è la mia seconda produzione a teatro, perché come ben sai, Franco, mi sono un po' allontanato dalla discografia, ma nel 2018 tornerò. E mi sono avvicinato un po' di nuovo alle mie origini che so che è il teatro, quello del teatro. E' in gambissima questo ragazzo. Canta... Canta... Ignazio Nisi. Canta... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come ti è venuta questa passione? Quando ti sei accorto di saper imitare Totò? Non c'è un tempo, diciamo proprio da bambino. Allora vogliamo anche dire un'altra cosa importante, che la sua figura rappresenta, è uno dei membri dell'Oliver Band, la nostra Lidia, con lei che cornice tutto questo suo spettacolo, è in tour in tutto il mondo e c'è anche Totò. Quindi Totò è un membro della Lidia d'Oliver Band. Grazie Alberto. Grazie a tutti. Ti aspettiamo venerdì prossimo anche a te, va bene? Magari. Puoi uscire dall'alto lato. Grazie. Noi andiamo alla nostra postazione Magda, perché adesso c'è ancora, cari amici, siamo sempre in diretta, perché adesso c'è ancora un altro artista. Passiamo subito al prossimo ospite. Ok, signori, stasera è con noi allo show che spettacolo Enzo Barone. Buonasera Enzo. Salve, come si fa? Ciao Enzo. Partiamo subito col primo brano. Shin, se venga a pigliare. Ma posso. Di Franzese e Danisi, arrangiamenti Danisi. Signori, per voi canta? Enzo Barone. Grazie a tutti. 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 Allora, andiamo subito con il prossimo brano. Nore e libertà di Enzo Barone, arrangiamenti di Nino Danisi che salutiamo. Signori, canta Enzo Barone. Grazie a tutti. 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 Partiamo domani mattina. Partiamo domani mattina. Ho avuto modo di fare classico a Capri, quindi so cosa significa. Cosa significa. Certo. E voglio annunciare un'altra cosa molto importante che invito tutti l'8 dicembre al Palapartena Paese di Napoli. Ci sarà il concerto dell'artista Gianni Celeste e ci sarò anche io come ospite. E non mancate perché ci sarò anch'io, sarò invitato. Sicuramente. Grazie a voi. Grazie a tutti. Enzo Barone. Ciao, grazie. Ciao Enzo. Allora noi andiamo sempre sulla nostra postazione. Voglio anche complimentarmi con tutto lo staff di Italia Mia. Certo. Perché stasera mi state facendo emozionare. Complimenti. professionalmente parlato. Sta andando tutto molto bene. Ma io in particolare voglio salutare a quel signore lì che è venuto apposta per me e io ti ringrazio. In realtà è venuto per me perché io l'ho chiamato. Ho detto Ciro Moreno perché stasera non ci delizzi della tua presenza e lui è venuto. Grazie Ciro. Allora andiamo con il prossimo artista e lui è di casa perché è stato in tanti i miei contesti e non poteva mancare signori Franco Manna. Buonasera. Partiamo subito col primo brano di Franco Manna. Di Mann no. Di Gianni Renzi, Marco Trovato. Arrangiamenti liberati. Signori canta. Franco Manna. Grazie. 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 io so del vostro contesto so tante cose che sta facendo artisticamente Franco Magno domani e dopodomani il teatro del pittore San Giorgio Acremano con la compagnia di Raimondo Salvetti che saluto poi se me lo concedi otto anni di matrimonio di mio figlio mi ha detto papà saluta saluto a Raimondo Salvetti a Luciano Massimo alla grande signora bocca al lupo per domani e dopodomani io ci sarò anche io domenica invece noi dobbiamo ricordare altri due importantissimi appuntamenti il 23 dicembre e il 25 dicembre siamo a teatro e io e lui lavoreremo insieme per mio piacere veramente quindi la compagnia salitiamo Merolla, Tina Barone, Anna Merolla ricordiamo gli altri componenti Anna Valente Chiuri Mauro Amici della vecchia guardia Ciro Giorgio Ciro Giorgio che sta arrivando dall'America Magda e Franco Doi Kundan, Teatro Bolivar 23 e 25 dicembre non mancate grazie a Franco Manni alla prossima grazie alla prossima buonasera e in bocca al lupo grazie a Franco e adesso invece cosa facciamo? adesso andiamo subito velocemente in video e salutiamo l'artista Fabio Reale quindi buona musica noi ritorneremo subito qui in diretta su Italia Mia lo show con il spettacolo e c'è la briosità l'eleganza la musica della Lidia d'Oliver Bend quindi non manca tornate 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 a tra poco signori è con noi e non poteva mancare Fabio Reale andiamo con il primo brano Vince sempre tu di Enzo Caradonna salutiamo arrangiamenti Nino Danisi signori canta Fabio Reale che grande storia d'amore a raccontarla sei tu tu come vieni in do ma chiedi sempre di più io che ti amo l'ammetto non sa c'è sta senza te e faccio ancora di tutto per dare il meglio non sa c'è non sa c'è l'anno non sa c'è Grazie a tutti. 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 Una cosa... Grazie a tutti. 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 e poi... e... 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 ... e... 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 andiamo... e... 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 ... e... 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 e...